È stata sostanzialmente una partita equilibrata, alla differenza la fatta che l'Empoli aveva una tenuta nervosa dentro la partita migliore della nostra perché doveva per forza vincere. Gli diversi impulsi nervosi fanno la differenza. Ha vinto in una partita ordinaria ma complice è la Samp che gli ha concesso questo. Non c'è stato un calciatore sul quale si può puntare l'indice per aver fatto una partita non all'altezza e che poi un po' tutti hanno lasciato per strada quelle risorse nervose che sono necessarie per giocare le partite e sono determinati dal momento, dalla stagione, dalla situazione, da quanta forza hai per richiamare a raccolta tutte le tue energie. Non c'è stato un giocatore ma abbiamo fatto l'ordinario e con l'ordinario non vai da nessuna parte. È quell'ordinario che io voglio combattere, è quella normalità che ci appiattisce, che non ci eleva, è quella normalità che non ci fa fare quel salto. La partita di oggi testimonia questo, poi va contestualizzata ma la sconfitta non va mai bene perché poi in questo periodo del campionato tutte le partite sono buone per far valutazioni di ogni genere. A 360 gradi le fanno tutti, i calciatori, gli allenatori, il club, i tifosi, l'ambiente. Il gruppo ha fatto un ottimo campionato, io dico sempre che se noi guardassimo questo triennio con l'occhio di tre anni fa, oggi diremmo sì, sono state fatte cose importanti sotto ogni punto di vista. Ma oggi abbiamo raggiunto un certo livello di immagine, di prestazione, di livello di squadra che ci riporta in quella dimensione di ordinario. Oggi è normale così, oggi è normale essere questi perché ti sei guadagnato questo step. Adesso, cosa che io mi ostino e sulla quale piggio sempre il tasto, bisogna capire, elevare le motivazioni, bisogna andare al campo ogni giorno per mettere un mattone, un mattoncino. Grazie.